e siamo alla prima serie e cinquanta falla assoluti maschi ma un rottoniato al record del meeting ventiquattro e cinquanta corsia a quattro Angilella la cinque Manuel Frigo specialista dello stia libero veloce in vantaggio in corsia cinque per il team Veneto Manuel Frigo venticinque e ventitré Filippo Costi venticinque ottantacinque Davide Angilella venticinque